Torino Cagliari E facendo leva su una crescente spregiudicatezza si approssimavano all'area avversaria come in questo caso con Piras, favoriti da una delle indecisioni di Van de Corput esordiente in campionato. A centrocampo Pecci, scarsamente assistito da Sclos, subiva la regia dinamica di Marchetti e Graziani doveva ingegnarsi per insediare corti e per rendere incisiva una manovra spesso laboriosa e volentieri imprecisa. In avvio di ripresa quasi un segno premonitore. Volpati con la sua conclusione parata da corti illustrava il nuovo piglio autoritario della squadra ma anche l'intenzione dei Granata di non sopravvalutare il contropiede sardo. E invece proprio su contropiede, pur senza ricorrere ad un selvaggi soffocato dalla guardia di Salvadori, il Cagliari pareggiava con Piras che condannava la leggerezza degli avversari. Virdis subentrava a Gattelli ed era proprio l'ex bianconero al diciannovesimo a realizzare il gol della vittoria, sul campo che per tre stagioni gli aveva riservato sistematicamente delusioni e invettive. La reazione dei Granata era frenata dallo scoraggiamento che improvvisamente contagiava la squadra. D'amico commetteva meno svarioni dei compagni ma Mariani continuava a latitare in fase conclusiva, sicché era ancora Graziani ad esaltare corti. Il 2-1 finale sanciva il ritorno ai livelli della scorsa stagione da parte del Cagliari e il ritorno agli antichi difetti da parte del Torino, abile nell'aggredire la partita ma ingenuo nell'amministrarla.